buongiorno siamo a relè il santissimo sono giuseppe resta l'ex equity chef delle due strutture qui ormai da otto anni dove andiamo a preparare personalizzare e coccolare il vostro futuro matrimonio la scelta dei piatti avviene dopo un'accurata degustazione e quindi in base alle vostre esigenze al numero degli invitati alla provenienza andremo a personalizzare il tutto abbiamo una tipologia di matrimonio nazionale internazionale e addirittura menù pulisi svolto in corte in ottima atmosfera il menù pulisi è caratterizzato da molti dei nostri prodotti tipici locali quindi molta materia prima rivisitato naturalmente in chiave moderna per l'impiattamento e quindi viene apprezzato molto dai nostri sposi con invitati del posto o addirittura anche da ospiti provenienti da tutta italia